i sindacati non li hanno voluti sentire parlare. Noi abbiamo detto che se ci sono il rispetto di queste tre cose siamo pronti a firmare un documento in bianco, combilatelo voi. Si sono rifiutati, sono usciti con ulteriori proposte per far saltare il tavolo, addebitando a noi la rottura del tavolo. Il tavolo è stato rotto perché i sindacati non hanno accettato l'accordo che il Ministero li ha sottoposti. Il tavolo l'hanno fatto saltare loro. Noi alla fine, ieri sera, abbiamo dato 24 ore ai sindacati per ricevere una risposta. La risposta che dobbiamo ricevere è se accettano o non accettano di sottoscrivere l'accordo che ci ha proposto il Ministero con l'unica variante, che lì sull'accordo si parlava della prosecuzione del contratto di solidarietà fino al 31 ottobre, che era la scadenza più o meno normale, e poi da lì si licenziava. La proposta che abbiamo fatto noi è quella di chiudere subito il contratto di solidarietà e fare partire i 12 mesi di cassa integrazione in zona di crisi complessa e da lì fare partire gli ammortizzatori. Se loro accettano questo accordo e ci danno risposta stasera, bene, altrimenti domani mattina l'azienda si senderà libera nei confronti di tutti di prendere qualsiasi decisione. Noi non siamo qua per fare danni a nessuno, non siamo qua per fare guerre con nessuno, siamo venuti qua per salvare un'azienda. Tendiamo e pensiamo di riuscirci, però ci vuole l'aiuto di tutti, soprattutto delle maestranze che conoscono molto più di noi e molto meglio di noi quali sono i reali problemi dell'azienda. A questo punto queste cose hanno in genere una certa dinamica. Pensate di rimettervi comunque al tavolino, al tavolo? Non credo proprio, perché io sto uscendo in questo momento e sto andando a Perugia per motivi personali con mia moglie. Io se non ricevo una telefonata, andrò stasera alle 18, che mi si dice che accettano di firmare l'accordo, mi senterò libero domani mattina di fare ciò che devo fare. Ho già dato mandato agli avvocati aziendali per verificare tutte le forme di legge, per arrivare a prendere una decisione complessiva che risolve il problema, che possa essere sia quella di iniziare un percorso unilaterale per eliminare gli esuberi, ma potrebbe essere anche quello di ritirare la domanda di concordato e portare all'azienda in vallimento.